se volete acquistare crediti e fifa points ai prezzi più bassi di sempre passate da mm o rock con il coach justice avrete un ulteriore 6 per cento di sconto state tranquilli sono super affidabili e molto molto economici buona prima ragazzi più giustizio di siamo tornati con questo un video un po diverso spero che questa tipologia di video vi piaccia andrò a trattare un argomento abbastanza tecnico ossia i miei moduli preferiti il mio modulo preferito perché alla fine è uno solo e poi ce ne stanno altri che comunque mi piacciono abbastanza vi andrò a dare le mie opinioni ovviamente aspetto vostri sconti nei commenti sia per quanto riguarda questo video quindi i vostri moduli preferiti se siete d'accordo con quello che vi dirò ma sia per cosa trattare in altri video di questo genere quindi sempre un ambito abbastanza tecnico quindi suggerirmi argomenti qui sotto quindi qualsiasi cosa vi anche a mente abbastanza tecnica dove volete una mia opinione insomma dei consigli anche se io non sono un fenomeno a giocare come sapete però qualche opinione credo di potervela dare parlando dei miei moduli preferiti allora il mio modulo preferito è senz'altro il 4 3 1 2 come vedete anche da questa squadra lo uso l'utilizzo in diverse squadre premetto che tutti i moduli di cui parlerò hanno difesa 4 perché io senza tersini non riesco proprio a giocare ho bisogno di due tersini forti come sono tra l'altro per se zunica che sono devastanti quindi questa è questo è il mio modulo preferito perché vi chiederete voi allora soprattutto per come funziona il gameplay in quest'anno quindi soprattutto per l'importanza dei passaggi infatti come vedete ho 300 campisti tutte e tre a parte sono devastanti però sono un centrocampo denso a mio parere contribuisce a migliorare il gioco e a fare più facilmente gol poi ho anche amsic che comunque gioca anche più vicino al centrocampo rispetto che agli attaccanti oppure ho questi due attaccanti ossia di bala e morata che uno gioca un po più vicino al centrocampo per esempio di bala e l'altro un po più fa la ponte riferimento come potrebbe essere morata quindi questo modulo mi piace veramente veramente tanto ma in generale come vi andrò a dire in seguito tutti i moduli che hanno tre centrocampisti vicini mi piacciono tanto perché il centrocampo denso potete fare una ragnatella di passaggi più fitta far aprire l'avversario perché un'altra caratteristica di questo gioco è la difesa cioè bisogna sapere aspettare non bisogna uscire altrimenti si creano le buchi e venite facilmente penetrati senza doppi sensi comunque questo è il primo modulo poi ci sono anche altri che comunque mi piacciono per esempio il 4 3 2 1 quello con ats e atd quello là è anche molto bello soprattutto se avete degli ats e atd molto molto forti come per esempio vorrebbe essere un draft ronaldo e messi quindi quello là ci sta ci sta tutto anche quello ha tre centrocampisti vicini non ha il coc ma comunque avete le due i due ats e atd appunto che possono fare anche da coc uno gioca un po più largo magari uno sta un po più a centro vi faccio vedere altre squadre che ho sempre con 4 2 2 è anche un altro modulo avete visto anche nell'ultimo video 4 2 2 2 anche mi piace abbastanza mi piace abbastanza soprattutto vabbè se avete quei due attaccanti là davanti ma questo è un altro discorso delle caratteristiche però sono secondo me deve avere due coc veloci o almeno uno veloce uno un po più tecnico come questo caso dovrebbe essere di maria e la no glue in modo che uno possa andare sul fondo e crossare cosa che fa di maria e l'altro invece possa trovare la conclusione o tirare calci piazzati o passarla anche lui insomma scambiare 1 2 con l'attaccante quindi anche questo modo mi piace abbastanza in modo che si sinceramente non mi hanno per niente convinto sono il 4 3 3 tra parentesi 4 che non è op come l'anno scorso proprio perché le ali contano meno dei centrocampisti quindi conviene di più avere un centrocampo folto piuttosto che delle ali forti almeno in quel modulo lì insomma poi il 4 1 2 1 2 proprio mi ha fatto mi ha fatto non lo riesco a sopportare proprio perché ha i reparti troppo distanti tra loro cioè bisogna tentare troppe volte il lancio lungo e per il gioco di quest'anno non va assolutamente bene un altro modulo che invece mi sento di consigliarvi è il 4 2 3 1 adesso ce l'avevo nella squadra con Lewandowski poi ho cambiato ma ancora lo devo provare ho messo il 4 3 3 4 proprio per vedere come girava perché non riuscivo a usare Lewandowski erano arrivato in una serie di partiti in cui non faceva più niente comunque usavo il 4 2 3 1 tra parentesi 2 che è secondo me un ottimo modulo un ottimo modulo perché intanto vi faccio vedere questa squadra in 4 3 2 1 un ottimo modulo perché? perché vi permette di stare molto coperti dietro avendo due cdc di avere il coc molto vicino al centrocampo e di avere un attaccante ovviamente che fa da punta unica per usare quel modulo ovviamente bisogna un attaccante completo che non può essere per esempio un dibala ma per esempio già un morata andrebbe benissimo un attaccante che fa reparto da solo quindi non può essere uno con delle caratteristiche come dibala secondo me almeno poi ognuno ha la sua opinione quindi questi sono i moduli che sinceramente mi hanno convinto di più per il gioco di quest'anno per il gameplay di quest'anno è cambiato è cambiato veramente tanto rispetto agli anni scorsi io sinceramente dopo la patch qualcosa è stata messa a posto insomma è stato fatto tornare più a un FIFA 15 però comunque rimane diverso prima della patch era completamente completamente diverso quindi io spero che questo video vi sia stato utile insomma fatemi sapere quali sono i vostri moduli preferiti ditemi i vostri due moduli preferiti io in generale scelgo il 4312 e il 4222 come i miei due moduli preferiti ma il 4312 li so rasta tutti perché sinceramente secondo me è imbattibile quest'anno quel modulo lì comunque fatemi sapere ripeto qua sotto i vostri moduli preferiti ditemi che altro argomento trattare in un prossimo video del genere soprattutto se vi piace lasciate un bel mi piace cerchiamo di arrivare a 300 lo so che questi video sono un po' particolari magari dove non intrattengo ma più che altro cerco di darvi la mia opinione un po' più tecnica e niente io spero vi sia stato utile come al solito vi ringrazio come sempre per la visione ci vediamo un prossimo video ciao a tutti